Considerando la passività con cui la maggior parte di noi subisce dei cambiamenti sociali che si traducono poi in un danno per la popolazione in generale, oggi vi voglio proporre un testo di un ragazzo del Cinquecento. Dico di un ragazzo del Cinquecento perché Etienne de la Boésie scrive questo testo in giovane età. Il testo si intitola Discorso sulla servitù volontaria. Il titolo è già di per sé molto intrigante. Si parla appunto di servitù, ma di una servitù che sembrerebbe quasi essere desiderata dalla maggior parte delle persone, da quella massa, diciamo così, che Etienne de la Boésie chiama il popolo e che sarebbe forse preferibile chiamare con un termine più moderno popolazione dal momento che la parola popolo evoca una collettività attiva piuttosto che una massa passiva a cui possono essere imposte delle decisioni che vanno al loro detrimento, al loro discapito. Intendo cioè al discapito di tutti gli individui che formano questa massa formidabile. Prima di leggere alcuni brani tratti da questo libro di Etienne de la Boésie, autore, ripeto, del Cinquecento, quindi siamo in Francia, in epoca rinascimentale, volevo iniziare citando due motti latini che possono essere considerati come una introduzione a quanto poi Etienne de la Boésie dirà nel suo libro. Il primo motto, panem et circenses, è tratto da giovenale. Tutta la frase sarebbe Populus duas tantum res optat, panem et circenses, cioè il popolo desidera soltanto due cose, il pane e il circo, cioè che gli si dia da mangiare e che lo si addormenti in qualche modo con ogni sorta di divertimenti. Nel caso di Giovenale il divertimento del popolo romano, il principale svago, era appunto la partecipazione agli spettacoli del circo. L'altro motto viene attribuito al cardinale Carlo Carafa, il cardinal nipote perché era stato sollevato alla porpora cardinalizia proprio dal suo zio che era diventato papa con il nome di Paolo IV e pare che questo cardinale abbia detto che il popolo vuole essere ingannato e dunque inganniamolo. Ecco questi due motti, come anche l'opera di Etienne della Boésie, possono essere interpretati almeno in due modi. Da una parte si può pensare che chi, diciamo così, dà credito a queste idee sia un conservatore il quale vuole far passare l'idea che il popolo, come diceva Tommaso Campanella, è una bestia varie e grossa che ignora le sue forze e quindi non è in grado di intendere il suo vero interesse e si lascia condurre da un fanciul che non la possa, continuava Campanella nel suo sonetto della plebe che leggeremo insieme ai testi di La Boésie, e quindi non c'è alcuna speranza, diciamo così, di un qualche rivolgimento che porti ad uno stato veramente democratico, uno stato cioè in cui il popolo consapevole dei propri diritti non se li lascia togliere da un gruppetto ristretto di potenti o addirittura da un tiranno. Ecco questa interpretazione naturalmente esclude la possibilità di questo cambiamento in senso democratico e quindi possiamo dire, si può dire, che la posizione di chi sostiene appunto le idee veicolate da questi motti latini e dallo stesso Etienne de La Boésie siano le idee conservatrici perché tolgono appunto ogni possibilità che il popolo possa ribellarsi al tiranno e anzi suggeriscono l'idea che addirittura il popolo ami le proprie catene, desideri essere servo dei signori. L'altra interpretazione che può essere data, naturalmente le due interpretazioni possono stare insieme, è che invece il testo della Boésie sia una sorta di incitazione, di sollecitazione rivolta al popolo, sollecitazione che dovrebbe far sì che la gente prenda consapevolezza della propria forza che finalmente arrivi a desiderare la libertà e desiderando la libertà si liberi dalle proprie catene. Ma lascio a voi poi il gioco, diciamo così, di interpretare il testo della Boésie, il sonetto di Campanella, questi motti che vi ho esposto, come meglio credete. Bene, adesso vorrei iniziare appunto la lettura di questi brani che ho scelto dalle prime pagine del discorso sulla servitù volontaria. Prima però facciamo una sorta di breve sintesi del ragionamento. De la Boésie parte dal presupposto che la libertà sia un bene irrinunciabile, che la libertà sia un po' la fonte di ogni felicità. Partendo da questo presupposto egli retoricamente si meraviglia di come appunto, essendo un bene così importante, un bene senza il quale tutti gli altri beni perdono il loro gusto, perdono il loro sapore, il popolo non la cerchi come appunto qualche cosa di primario, non si sforzi, diciamo così, di ottenerla, tanto più che l'ottenerla sarebbe la cosa più facile del mondo. Infatti per ottenere la libertà dal tiranno, dal monarca, dai signori, il popolo non avrebbe altro da fare se non smettere di obbedire. Dunque non c'è neanche bisogno di combattere per ottenere la libertà, basterebbe appunto da parte del popolo di smettere di obbedire, di servire questa esigua minoranza di signori che senza, diciamo così, il servizio del popolo cadrebbero subito in disgrazia, non saprebbero più cosa fare, perderebbero tutte le loro ricchezze e si ritroverebbero, diciamo così, a mal partito. E dunque ecco la meraviglia di Delo Boetsy, il quale arriva un po' retoricamente alla conclusione che tra tutte le cose che si possono desiderare e che può desiderare sia l'uomo coraggioso, sia il vigliacco, con la differenza che l'uomo coraggioso, essendo coraggioso, può raggiungere questi beni desiderabili, mentre il vile, pur continuando a desiderarli, tuttavia non ha l'animo di combattere per raggiungerli, e con la libertà, come dire, si viene tratta fuori da questo novero dei beni desiderabili e Delo Boetsy dice tra tutti i beni l'unico bene che sembra non essere desiderato dal popolo è proprio la libertà. La libertà che invece, a partire dal suo presupposto, è quel bene massimamente desiderabile che rende, in un certo senso, più godibili gli altri beni. La conclusione di Delo Boetsy, dunque, è che la servitù in cui il popolo è tenuto è una servitù volontaria e quindi non è tanto da attribuire ai signori, al tiranno, al re, ai potenti, lo stato di servitù del popolo, ma è da attribuire a se stesso. E dunque egli sostiene nel, come dire, nel sollecitare il popolo a prendere consapevolezza di questa sua miserabile condizione egli si dimostra di essere assai poco saggio, poco saggio perché si comporta come quel medico che di fronte a una ferita inguaribile cerca appunto di rimediare, ma una ferita inguaribile non può appunto essere guarita, non può essere curata, per cui è vano anche indaffararsi allo scopo di raggiungere un risultato che non può essere raggiunto. E così predicare al popolo, diciamo così, la facilità con cui esso potrebbe liberarsi dai suoi oppressori è impresa del tutto inutile dal momento che la servitù in cui il popolo si mantiene è una servitù volontaria, è una servitù che appunto è desiderata dal popolo. Ma passiamo adesso senz'altro alla lettura dei brani non è necessario combattere questo tiranno non è necessario levarlo di mezzo si leva di mezzo da sé a patto che il paese non acconsenta alla propria servitù non bisogna toglierli alcunché bisogna non regalargli nulla non è necessario che il paese si dia pena di fare qualcosa per sé a patto che non faccia nulla contro di sé sono infatti i popoli che si lasciano o piuttosto si fanno maltrattare dal momento che smettendo di servire sarebbero liberi è il popolo che si fa servo che si taglia da solo la gola che avendo la scelta tra essere servo e essere libero rinuncia all'indipendenza e prende il gioco che acconsente al proprio male o piuttosto lo persegue se gli costasse qualcosa di ottenere la sua libertà non lo solleciterei affatto in quella direzione benché cosa può mai avere l'uomo di più caro del riottenere i suoi diritti naturali tornando per così dire da bestia a essere umano ma non pretendo da lui tanto coraggio gli concedo di preferire la vaga sicurezza di una vita miserabile alla dubbia speranza di vivere felice ma come se per avere la libertà basta desiderarla se non è necessario altro che un semplice volere si troverà mai una nazione al mondo che la giudichi ancora troppo cara potendola guadagnare con un semplice auspicio e deplori la volontà di riottenere quel bene che sarebbe da riscattare a prezzo del sangue e che una volta perduto rende ripugnante la vita e provvidenziale la morte per ogni uomo d'onore certo come il fuoco si propaga e rafforza da una piccola scintilla e più legna trova più ne potrebbe bruciare e senza che vi si getti acqua sopra per smorzarlo solo smettendo di gettarvi legna da ardere non avendo più nulla da consumare si consuma da sé e finisce per perdere la forza e la fiamma allo stesso modo i tiranni più saccheggiano tanto più pretendono più devastano e distruggono tanto più loro si concede più li si serve tanto più si rafforzano e si fanno sempre più potenti e pronti ad annientare e a distruggere ogni cosa ma se non si concede loro nulla se non gli si obbedisce affatto allora senza combattere senza colpire eccoli nudi e sconfitti non sono più nulla come il ramo che rinsecca e muore quando la radice lo priva di linfa o di nutrimento e poco più oltre a proposito di quello che dicevamo e cioè del fatto che il popolo non desidera la libertà benché tutti quanti sia i coraggiosi sia i vili desiderino le stesse cose una sola cosa fa eccezione e non so perché la natura venga qui meno agli uomini nel desiderarla la libertà un bene così grande piacevole che una volta perduto ne derivano tutti i mali e anche i beni che restano dopo la sua scomparsa perdono completamente il loro gusto e sapore corrotti dalla servitù la libertà è la sola cosa che gli uomini non desiderano affatto o almeno così sembra per la semplice ragione che se la desiderassero l'avrebbero come se rifiutassero quel bel guadagno soltanto perché troppo facile da ottenere o popoli insensati poveri e miserabili o nazioni ostinate nel vostro male e cieche al vostro bene vi lasciate portare via sotto gli occhi le ricchezze più belle lucenti devastare i vostri campi svaliggiare le vostre case già ormai spogliere gli antichi mobili di famiglia vivete in modo da non poter più vantare il fatto che qualcosa sia vostro e vi sembra ormai una gran fortuna poter gestire ancora la stregua di mezzadri i vostri beni le vostre famiglie le vostre vite vigliate e tutto questo disastro questa disgrazia questa rovina non vengono da molti nemici ma da uno solo quello che voi avete reso tanto grande per il quale andate così coraggiosamente in guerra per la cui grandezza non rifiutate nemmeno di presentare le vostre persone al cospetto della morte chi vi domina in tal misura ha soltanto due occhi ha soltanto due mani ha soltanto un corpo e non ha nulla in più dell'ultimo uomo del grande infinito numero delle vostre città tranne il privilegio che voi gli concedete per distruggervi dove mai prenderebbe i tanti occhi con cui vi spia se non foste voi a fornirglieli come disporrebbe mai di tante mani per colpirvi se non le prendesse da voi e i piedi con cui calpesta le vostre città dove mai li troverebbe se non fossero i vostri come mai farebbe ad avere potere su di voi se non gli provenisse da voi stessi come oserebbe mai attaccarvi se non d'intesa con voi cosa potrebbe mai farvi se voi non foste ricettatori del bandito che vi deruba complici dell'assassino che vi uccide e traditori di voi stessi seminate i vostri campi perché lui ve li devasti arredate e addobbate le vostre case perché ve le saccheggi crescete le vostre figlie perché lui abbia di che soddisfare la sua lussuria crescete i vostri figli perché nel migliore dei casi li mandi alle sue guerre li conduca al macello ne faccia i ministri delle sue bramosie e gli esecutori delle sue vendette vi schiantate di fatica perché lui possa godersi le sue delizi e sguazzare in piaceri sudici e volgari vi stremate perché diventi più forte e sicuro nel tenervi corta la briglia e di tanta indegnità che neppure le bestie riuscirebbero a immaginare o sopportare voi potreste liberarvi se provaste non a liberarvene ma soltanto a volerlo fare decidetevi a non servire più ed eccovi liberi non voglio che lo abbattiate o lo facciate a pezzi soltanto non sostenetelo più e allora come un grande colosso cui sia stata tolta la base lo vedrete precipitare sotto il suo peso e andare in frantuno certo i medici ben consigliano di non mettere mano alle piaghe incurabili e io non mi comporto da saggio volendo predicare queste cose a un popolo che da tempo ha perduto ogni consapevolezza e che non avvertendo più il suo male mostra a sufficienza come la sua malattia sia mortale passiamo adesso a un altro brano che possiamo accostare al motto di giovenale cioè quello famoso panem et circenses cioè in che modo il tiranno riesce a tenere in pugno le moltitudini attraverso una sorta di stupidimento collettivo soddisfacendo i loro bisogni elementari e la tendenza naturale al divertimento al disimpegno al dimenticare appunto quali sono i suoi diritti che Etienne della Boesie chiama diritti naturali tra cui spicca il diritto alla libertà vediamo come Etienne della Boesie presenta questo aspetto ma l'astuzia dei tiranni nell'abrutire i propri sudditi si dà a vedere nel modo più chiaro in quel che Ciro fece ai Lidi dopo essersi impadronito di Sardi la capitale e avere catturato preso in suo potere il più ricco dei re gli giunse la notizia che gli abitanti di Sardi si erano rivoltati e avrebbe facilmente riavuti in pugno ma non volendo mettere a ferro e fuoco una città tanto bella né darsi la pena di avere sempre un'armata a presidiarla e scogitò un grande espediente per assicurarsela fece aprire i bordelli taverne e sale da gioco emanando un'ordinanza che obbligava gli abitanti a frequentarli fu talmente soddisfatto di questa nuova guarnigione che da allora in poi non fu più necessario tirare un solo colpo di spada contro i Lidi questi poveri miserabili si divertivano infatti a inventare ogni sorta di gioco al punto che i latini per indicare quelli che noi chiamiamo passatempi inventarono la parola Ludi come a voler pronunciare il nome degli abitanti della Lidia non tutti i tiranni hanno dichiarato in modo così esplicito di volere effeminare le proprie genti ma a dire il vero la maggior parte di loro tenta di fare in segreto quel che Ciro ordinò a chiare lettere in verità la plebe nelle città è sempre la maggioranza è per natura sospettosa nei riguardi di chi l'ama ecco qui il testo di De La Poesie continua rilevando un altro aspetto interessante un aspetto che ci richiama ancora una volta alla mente la figura di Socrate e cioè il fatto che molto spesso il popolo si scaglia contro coloro che sinceramente vorrebbero aiutarlo e al contrario elogia serve e come dire e ama addirittura quelli che lo ingannano e che lo sfruttano per i loro interessi ecco come continua il testo di De La Poesie in verità la plebe che nelle città è sempre la maggioranza è per natura sospettosa nei riguardi di chi l'ama e ingenua verso chi la inganna non pensiate esista uccello che si faccia prendere più facilmente in trappola o pesce che per ingordigia dell'esca abbocchi più in fretta l'amo di quanto tutti i popoli si facciano rapidamente sedurre dalla servitù appena ne avvertano come si usa dire il profumo sotto il naso ed è straordinario vedere come si lasciano andare tanto in fretta non appena li si adeschi i teatri i giochi le farse gli spettacoli i gladiatori le bestie esotiche le medaglie i dipinti e altre droghe di questo genere rappresentavano per i popoli antichi l'esca della servitù il prezzo della loro libertà gli strumenti della tirannina erano questi i mezzi le pratiche le lusinghe che gli antichi tiranni avevano a disposizione per addormentare i loro sudditi sotto il gioco così i popoli instupiditi trovando belli questi passatempi divertendosi con il vano piacere che gli balenava davanti agli occhi si abituavano a servire in modo altrettanto sciocco se non peggiore dei bambini che imparano a leggere guardando le figure luccicanti dei libri miniati non c'è bisogno naturalmente di commentare questo brano ognuno che abbia un briciolo di intelligenza è in grado di giudicare quanto queste parole siano attuali nei tempi che stiamo vivendo bene concludo con la recitazione del sonetto famoso sonetto di campanella che si intitola della plebe il popolo è una bestia varia e grossa che ignora le sue forze e perciò stassi appesi e botte di legno e di sassi guidato da un fanciul che non appossa che gli potria disfar con una scossa ma lo teme e lo serve a tutti i spassi ne sa quanto è temuto che i bombassi fanno un incanto che i sensi gli ingrossa cosa stupenda e si appicca in prigione con le sue proprie mani e si dà morte e guerra per un carlin di quanti egli al re dona tutto è suo quanto sta fra cielo e terra ma non conosce e se qualche persona di ciò l'avvisa ed uccide e la terra va